Oggi in fase difensiva abbiamo fatto molto bene, secondo me siamo stati ordinati, abbiamo concesso veramente poco. In fase offensiva di costruzione abbiamo perso un po' troppi palloni, abbiamo creato meno, però ci può stare una partita così. L'altra partita abbiamo sempre creato tantissimo e non siamo riusciti a concretizzare. Oggi abbiamo creato un po' meno, loro si sono difesi bene, sono una buona squadra, quindi comunque dobbiamo ripartire da questo punto, adesso ricaricare le batterie durante la sosta e poi cercare di fare tre punti la prossima. Però è ancora molto presto, può succedere di tutto e noi lavoriamo ogni partita per fare tre punti. Dobbiamo avere sempre questa mentalità, continuare su questa nostra strada, cercando di migliorare le cose che abbiamo fatto meno bene in questo periodo. Cosa è successo? È subentrata forse un po' di stanchezza, loro hanno tenuto il ritmo alto tutta la partita, e non siamo riusciti a mantenere il ritmo anche nel secondo tempo. C'è stato un po' un calo, però l'importante secondo me è che la squadra è stata sempre ordinata e non ha mai sofferto troppo.